Pancakes ripieni di Nutella? Beh, ci proviamo almeno! Dovrebbero essere buoni! Creiamo la pastella per i nostri pancakes sbattendo l'uovo con lo zucchero fino a renderlo spumoso Ora uniamo un cucchiaino di lievito alla farina e con una forchetta misceliamo le polveri per unirle meglio Poco per volta aggiungiamo la farina e il lievito all'uovo sbattuto Ora possiamo diluire l'impasto con il latte Lo versiamo a piccole dosi per fare in modo che la pastella per i pancakes risulti morbida e cremosa Se vediamo che diventa troppo liquida non aggiungiamo altro latte Lasciamo riposare la pastella per alcuni minuti e intanto mettiamo una padella antiaderente sul fuoco Con pochissimo olio cospargiamo la superficie Versiamo un mestolino di pastella nella padella e con il dorso del mestolo lo allarghiamo dolcemente Lo lasciamo cuocere per un paio di minuti prima di mettere un generoso cucchiaio di nutella al suo centro La facciamo colare dall'alto per non toccare l'impasto che si attaccherebbe al cucchiaio rovinando il nostro pancakes Lasciamo cuocere qualche minuto e andiamo ad aggiungere mezzo mestolino di pastella sopra la nutella Rigiriamo il pancakes e lasciamo cuocere ancora a pochi istanti Lo raccogliamo con una spatola e lo aggiungiamo sopra quelli che abbiamo preparato prima per ottenere una torta di pancakes Spolveriamo con dello zucchero a velo e come tocco finale ricopriamo i pancakes con dei fili di nutella Ecco i nostri pancakes alla nutella Non vi viene voglia di prepararli? 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 Grazie.